Benvenuti, con questo video vi spiegherò le basi per iniziare a suonare il flauto Fuiara. Innanzitutto, due parole sullo strumento. Questa Fuiara l'ho realizzata io in PVC e intonata in Do. La peculiarità di questo strumento è che ha solamente tre fori. I fori si coprono in questo modo, quindi con una mano indice e annulare solitamente, e con l'altra mano si può scegliere o indice o medio e si copre l'ultimo foro. Questo strumento sfrutta gli armonici naturali. Soffiando con pochissima pressione in maniera costante si ottengono le note Do, Re, Mi, Fa. Queste quattro note sono troppo basse di volume e perciò non vengono utilizzate normalmente. Quindi si passa a innescare subito il secondo armonico e si ottengono esattamente le stesse note un'ottava più alta. Soffiando con un po' di pressione in più si ottengono le note mancanti Sol, La, Si, Do. In questo modo abbiamo la scala completa. Man mano che si vogliono ottenere note più alte bisogna ricordarsi di aggiungere un po' di pressione mentre si soffia nello strumento. E' bene sapere che l'ultima nota si può ottenere sia con i fori tutti chiusi che tutti aperti. Ci sono almeno altre tre tecniche che è utile sapere quando si inizia. Una di queste consiste nel produrre il suono in modo da innescare armonici molto alti. Un abbellimento aggiuntivo che si può inserire è il suono R, R. Per finire un'ultima tecnica molto interessante consiste nel fare un vibrato con il dito indice sul foro più vicino a voi. Quindi in questo modo. Questo va fatto quando si innesca il quinto o anche il sesto armonico che corrispondono alle note Mi e Sol. Prima va trovato e poi va vibrato. Grazie per aver seguito il mio tutorial. Se vi è piaciuto iscrivetevi qui e se avete domande potete lasciare un commento qui sotto. Grazie e ciao.